Allora sono entrata, chiaramente non sono scesa giù e come sapete è arrivata la procura per cui ci sono gli inquirenti che stabiliranno le cause. Nel frattempo ribadisco la vicinanza ai feriti, ai russi feriti e ringrazio chiaramente tutte le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco sono tutti arrivati immediatamente, si sono attivati per riuscire ad aiutare queste persone e alcune sono chiaramente in ospedale, altre sono comunque state assistite, noi siamo assolutamente vicini a queste persone per qualunque necessità.